L'incidente mortale nella serata è il martedì 15 ottobre intorno alle 21 in via Stefano Bruda a Busano. Una Renault Space è uscita di strada, assaltato il guardrail e infilandosi nel fossato ha ortato violentemente il ponticello in cemento. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Rivarolo Canavese e Ivrea, la croce rossa di Castellamonte, l'elisoccorso del 118 e i carabinieri di Rivara. Inutili i tentativi di rianimare il conducente classe 1987, residente in Lombardia, che probabilmente si trova in Canavese per un trasferta lavorativa. Il tratto è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni, in corso gli accertamenti dei carabinieri. Grazie a tutti i nostri spettatori.